Ben 5 le gare giocate con il turno infrasettimanale, 10 formazioni di eccellenza sono scese in campo, chi per il ritorno dei quarti di Coppa Italia, chi per recuperare i 90 minuti di campionato. Partiamo dalla competizione trecolore, le Acli Campo di Pietra hanno conquistato il pass per le semifinali, eliminando il Termoli dopo l'1-1 del Cannarse e il Rosso-Blu di Mister Cordone hanno vinto 5-0 tra le mure amiche. Ciocca, Meo, D'Addario, Turai e D'Aversa i marcatori. È approdato al prossimo step anche il Venafro, che forte dell'1-0 dell'andata ha fatto visi dal comprensorio Vairano. I padroni di casa si sono confermati squadra ostica. Dopo il vantaggio dei molisani con facecchia, Panico ha impattato per il Vairano, la rete di fascia ha chiuso i giochi sul 2-1 per il Venafro. Le due semifinaliste, Acli Campo di Pietra e Venafro, dovranno attendere mercoledì prossimo per conoscere la loro avversaria. Rocca Sicura, Treppini-Matese e Boiano-Guglionesi sono state rinviate per dare spazio ai recuperi di campionato. Domenica scorsa il maltempo non ha permesso ai ragazzi di Bonomi di giocare contro la Lefe. Ieri Rocca Sicura ha recuperato il match vincendo 8-0. Doppietta di Mallardo e Pasera, tripletta di Vitale e rete di Frasca. 21 punti per il Rocca Sicura, ancora ferma a 0 la Lefe. All'Ancellotta in campo ieri, Isernia-Guglionesi terminata 2-0. I basso molisani in vantaggio per due volte, prima con Valenti e poi con Montechiari, si sono sempre fatti raggiungere dai padroni di casa Mastrangelo e Giordano i marcatori. Il Guionesi è salito a quota 17, l'Isernia segue a 16. In campo per recuperare la decima di andata, Sesto Campano, Aurora Capriatese, Sissi e Caterino hanno firmato il cartellino per il 2-0 finale degli ospiti. Il Sesto Campano resta fermo a 19, la Capriatese è salita a 18.